Bentornati a una nuova puntata di Ecofuturo TV. La trasmissione è dedicata alle innovazioni tecnologiche per tutelare l'ambiente. Oggi parliamo di comunità energetiche, un tema caldo che ormai tutti conoscono per i benefici che queste possono generare sia per il portafoglio che per il pianeta. La condivisione dell'energia rinnovabile è un concetto che alcuni anni fa in Italia era ancora sconosciuto e a livello normativo queste erano addirittura vietate. Esatto Michele, infatti ad aprire le porte a questa forma di condivisione nuova è stato il Parlamento europeo con una norma promossa grazie all'allora eurodeputato Dario Tamburano. Sentiamo le sue parole sullo stato dell'arte delle cera ad oggi in questa intervista. C'è una sorta di movimento spontaneo, una sorta di rete che si sta costituendo di persone, associazioni, aziende, innovatori sociali anche che vogliono fare le comunità energetiche. Le comunità energetiche nascono dalla direttiva rinnovabili approvata nel 2018. Il paradosso è che una delegazione di parlamentari italiani ha avuto un grande ruolo nella scrivere questa norma e farla approvare per tutti i paesi dell'Unione Europea e come spesso succede gli italiani fanno le cose prima degli altri, le fanno a volte meglio, poi nel nostro paese si trovano ferme perché siamo in attesa nel 2023 ancora del decreto attutivo che permette di liberare il grandissimo potenziale delle comunità energetiche. Qual è questo potenziale? Il potenziale sicuramente è un potenziale di decarbonizzazione e quindi di utilizzare energia rinnovabile per buona parte dei consumi domestici e delle imprese. È un potenziale di rigenerazione dell'elecomia locale perché chiaramente muove aziende, installatori e anche altre realtà che si possono creare intorno a questa innovazione che è un'innovazione legislativa ma anche un'innovazione tecnologica è un'innovazione sociale. È tutto fermo, c'è un decreto che è stato inviato finalmente ormai diversi mesi fa in Commissione Europea. Questo decreto a mio parere, conoscendo molto bene la normativa e avendo partecipato alla sua stesura, viola in più punti i principi della direttiva ma anche in punta di diritto proprio l'articolato della direttiva. Il timore è che si blocchi in Commissione Europea e che quindi si ritardi ancora l'implementazione di una misura che permetterebbe di alleviare le bollette degli italiani e delle famiglie e delle aziende, soprattutto in un momento in cui l'inflazione viene spinta dall'aumento dei prezzi dell'energia. Speriamo che il nostro paese non sia partito per primo con la legge sperimentale e che non rimanga ultimo in Europa, soprattutto nel momento in cui nella riforma del mercato elettrico che si sta discutendo ora al Parlamento Europeo e al Consiglio Unione Europea, l'autoconsumo e lo sharing dell'energia rinnovabile tra pari è diventato un diritto e quindi c'è anche un superamento delle comunità in energia, è diventato un diritto di tutti a prescindere dalla Costituzione in comunità. Questa è una nuova modalità di interagire tra cittadini che possono condividere gli stessi impianti fotovoltaici e geotermici per abbattere le loro bollette e consumare energia autoprodotta. Le comunità energetiche si avvalgono anche di premi che il governo stesso eroga in base alla quantità di energia che viene autoconsumata nel momento stesso in cui è generata. E questo Elena può offrire enormi opportunità di sviluppo per le rinnovabili grazie all'installazione di impianti cittadini. Anche la Capitale si è attrezzata per promuovere la loro diffusione. Sentiamo come nell'intervista a Sabrina Alfonsi, assessora all'ambiente di Roma Capitale. Una grande rivoluzione intanto sociale di lotta vera alle disuguaglianze, alle disuguaglianze ambientali, alle disuguaglianze energetiche. C'è una grande spinta dalla società, bisogna assolutamente andare avanti in due settori. Uno, appunto il governo e il Parlamento devono immediatamente varare i decreti attuativi perché su quello siamo in ritardo e poi capire anche i finanziamenti. Ci sono finanziamenti per l'accompagnamento alla costruzione delle comunità energetiche per i piccoli comuni che non li sfruttano perché non ce la fanno a costruirle, non ci sono per le grandi città. Noi abbiamo messo in bilancio 200 mila euro come Roma proprio per fare la progettazione e l'accompagnamento alle prime comunità energetiche di Roma, una per ogni municipio, alcuni grandi progetti compreso quello del Maxi piuttosto che quello di Ostia. Nel frattempo 200 scuole con fondi PNRR avranno i pannelli fotovoltaici sui tetti e da lì partirà la comunità energetica all'interno della città. C'è bisogno di energia, c'è bisogno di energia rinnovabile e mai come adesso non si può perdere assolutamente questa battuta. Come purtroppo accade molto spesso in Italia, la burocrazia non aiuta il processo di realizzazione delle comunità energetiche, anzi l'ostacola. Ce ne parla l'avvocato Ludovica Terenzi di Green Square, che si occupa nello specifico della gestione amministrativa e legale delle comunità energetiche. Come studio legale in questo momento storico, visto che mancano ancora ovviamente, manca l'ultimo decreto attativo, le CER che seguiamo sono CER comunque relative al regime di natura transitoria, quindi sono CER relativamente piccole con incentivi al loro interno di base stimati piccoli, ricavi da vendita piccoli e quindi lo strumento legale più economico è quello dell'associazione non riconosciuta. In questo momento storico ci stiamo muovendo per l'appunto con questo strumento e è importante però che lo statuto venga scritto in una determinata maniera, soprattutto se si vuole poi registrare l'associazione non riconosciuta all'interno del RUNS, per l'appunto registro unico nazionale del terzo settore, è necessario per l'appunto che ci siano dei requisiti particolari che vadano a rispettare non solo la normativa in materia di CER ma anche la normativa in materia del terzo settore, perché se no poi il rischio che si corre è quello di una invalidazione sostanzialmente dello statuto da parte del registro nazionale del terzo settore, che comporta quindi poi una ulteriore burocraticizzazione di un percorso già comunque complicato e che vogliamo snellire. Il nostro ospite di oggi è Giorgio Mottironi, cofondatore di Ener2Crowd, la più importante piattaforma di investimenti sostenibili in Europa. A dialogare con lui, come sempre, il nostro Fabio Roggiolani, cofondatore di EcoFuturo. Ed eccoci con Giorgio Mottironi, cofondatore di Ener2Crowd e partner storico, diciamo così, di EcoFuturo della nostra fiera Exco, che ha fondato appunto una delle più importanti realtà di crowdfunding a livello nazionale e la più importante realtà di crowdfunding per quanto riguarda la sostenibilità energetica o l'ecotecnologia, l'ecoinnovazione. Ce la spieghi un attimo Giorgio? Assolutamente Fabio, grazie per avermi invitato ad essere presente qui con voi. Ener2Crowd è oggi la piattaforma e app di investimenti digitali e sostenibili numero uno in Italia. Quello che noi facciamo è diamo la possibilità alle persone, attraverso quindi uno strumento molto semplice da utilizzare come una piattaforma web, di investire in progetti 100% green, diventando così protagonisti della transizione energetica, perché possono ottenere un beneficio economico diretto, misurabile, tutti i giorni e nel frattempo contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione che il nostro paese e il nostro continente si sono dati, prima al 2030 e poi al 2050. Senti, ma voi riuscite con questa tecnicalità innanzitutto a fare in modo che i vostri clienti oppure i protagonisti della piattaforma, chi investe su di voi ne tragga davvero un beneficio oppure ci vuole solo un atto di generosità per aderire a tutto questo? No, no, assolutamente. Si tratta di investimenti veri e propri, quindi si ha la possibilità di prestare dei fondi a delle aziende che devono realizzare questi progetti, in cui la quantità di emissioni che viene evitato ridotta è precisamente calcolata e che sono in grado di remunerare l'investitore con un rendimento costante nel tempo, anche molto importante, perché si parla di rendimenti che partono dal 6,5-7% l'ordo anno e arrivano fino al 9%, a testimoniare che la transizione energetica è una grandissima opportunità anche per i piccoli risparmiatori quando vengono messi loro a disposizione gli strumenti per parteciparla. Noi da anni collaboriamo con questa piattaforma proprio perché ha assunto un approccio di democrazia finanziaria che a noi piace moltissimo, di etica finanziaria, che per noi è assolutamente essenziale e devo dire che l'altra questione fondamentale in cui loro si stanno dando una forte mano è lo sviluppo delle comunità energetiche rinnovabili che corrono il rischio di essere in mano ai soliti noti, a coloro che hanno sempre passivizzato le persone per renderli semplicemente dei consumer. Ecco noi vogliamo che tutti voi diventiate prosumer, che tutti noi lo diventiamo e proprio per questo c'è bisogno anche di questo strumento di democrazia finanziaria. Come funziona? Allora, innanzitutto hai detto benissimo, le comunità energetiche sono una grande opportunità per dare espressione al concetto di cittadinanza energetica, che è un po' la responsabilità, la consapevolezza che il cittadino deve avere e deve costruire nei confronti del modo in cui sfrutta l'energia, possibilmente rinnovabile lì sui territori o comunque lì vicino a dove poi esistono i consumi. Noi abbiamo, le seguiamo oramai da circa 20 mesi, che poi è il ritardo con cui stiamo aspettando questo famoso decreto in Italia, abbiamo deciso di lanciare una piattaforma che è generazionecer.it, su cui mettere gli strumenti della finanza alternativa a disposizione di chi voglia realizzare comunità energetiche. Quindi oggi le persone andando su questo indirizzo internet possono scaricare un documento di consultazione pubblica che spiega tutto quanto il meccanismo che abbiamo messo in piedi. Quello che potranno fare, speriamo già a partire dalla fine di quest'anno, è segnalare la volontà di creare una comunità energetica e quindi utilizzare questo strumento o per aggregare le risorse che sono già presenti sul territorio, quindi un gruppo di persone che ha dei soldi da investire nell'infrastruttura, o per fare in modo che lì dove non ci sono, che poi sono spesso le aree più importanti, possano essere attratti degli investimenti dei finanziatori interessati a realizzare quell'infrastruttura che poi diventerà il sostegno tecnologico della comunità energetica stessa. Quindi o lo utilizzo per mettere le mie risorse a disposizione della comunità energetica sul mio territorio, o lo utilizzo per attrarre delle risorse che sul territorio non ci sono ma che servono per realizzarla. Noi abbiamo già fatto partire alcune piccole comunità energetiche sotto i 200 kilowatt che sono quelle che oggi sono possibili da realizzare e c'è questa forte richiesta di protagonismo sociale, proprio perché c'è gente che può investire sulla sua quota energetica ma anche sulla quota energetica di altri. Quello che conta è che voi capiate che la comunità energetica, come dice tutta la trasmissione, riesce finalmente a far risparmiare tutti, quindi aiuta innanzitutto quelli che non gliela fanno, sono i poveri innanzitutto che devono avere la capacità di intervenire. Ecco come con questo strumento, anche con questo strumento di Ener2Crowd è possibile fare in modo che anche le persone con meno risorse possano comunque diventarne protagonisti. Assolutamente, hai detto proprio bene, le comunità energetiche sono una grande opportunità per sostenere anche da un punto di vista sociale ed economico i territori. Lo sforzo che penso tutti quanti noi stiamo facendo è evitare che diventino delle nuove periferie sociali della dimensione della transizione energetica. A me piace dire che quello che stiamo facendo serve ad evitare che diventino una dimensione in cui c'è una programmazione assente ed uno sviluppo spontaneo di quello che poi potrebbe andare a accadere e caratterizzare questo grande fenomeno. C'è bisogno di creare dei processi di partecipazione ordinati e che siano in grado di generare valore lì dove ce n'è più bisogno. Quindi spesso nelle zone un pochettino più svantaggiate o disagiate dal punto di vista economico e sociale. Benissimo, quindi grazie a Giorgio Motterioni che ci ha dimostrato che cosa? Che le comunità energetiche e la transizione energetica sono un'opportunità per tutti e quindi non di cui averne paura o pensare che siano un costo ulteriore, ma sono veramente una grande svolta. E grazie a questo tipo di democrazia finanziaria sono una grande svolta per tutti. Grazie. All'interno delle comunità energetiche si può condividere anche il calore. In termini di efficienza il plus valore che possiamo dare alle CER sono le pompe di calore ad alta temperatura che sfruttano l'energia prodotta dai pannelli fotovoltaici e consentono la diminuzione dei costi in bolletta e delle emissioni climalteranti. Lo vediamo in questo servizio. L'elettrificazione dei consumi termici, quindi sostituire caldaie con pompe di calore che utilizzano prevalentemente calore gratuito alla natura, ma in parte energia elettrica, si sposano molto bene con le comunità energetiche rinnovabili. Perché la comunità energetica rinnovabile, in particolare quella elettrica, promuove la produzione e la condivisione dell'energia prodotta tipicamente da impianti fotovoltaici. Quindi quanto più quell'energia elettrica è prodotta, viene utilizzata all'interno delle abitazioni, quanto più il valore generato dalla comunità aumenta. E ovviamente, visto che i due terzi della bolletta delle famiglie sono legate al riscaldamento e quindi al gas, in questo momento non energia elettrica, la trasformazione di un'impianta a gas o un'impianta a pompa di calore permette di valorizzare meglio l'energia elettrica prodotta da quelle fonti rinnovabili, quindi dal fotovoltaico, attraverso le comunità, anche per la principale spesa energetica delle famiglie. Una riflessione importante sarebbe anche quella di valorizzare le comunità energetiche rinnovabili termiche, quindi le pompe di calore, utilizzando calore a bassa temperatura, potrebbero prendere calore da una rete, io la definisco rete di teleriscaldamento fredda, quindi un pozzo geotermico che porta in giro acqua a 10-15 gradi e in prossimità delle abitazioni utilizzare questo calore a bassa temperatura per riscaldare le abitazioni. Essendo calore rinnovabile, quindi energia termica rinnovabile, un eventuale incentivo alla stregua di quello che avviene per le cere elettriche permetterebbe la diffusione di questa tecnologia e quindi la diffusione di teleriscaldamenti non più ad alta temperatura che sono fortemente dispersivi, ma a bassa temperatura portando la diffusione delle pompe di calore alle abitazioni e premiando l'investitore che realizza questa rete teleriscaldamento fredda. E adesso andiamo a vedere la seconda tappa del farming tour del Consorzio Italiano Biogas. Questa volta siamo andati a Gumello Veronese, presso la società agricola Palazzetto, dove è stato inaugurato un nuovo impianto di biometano. Esatto Elena, vediamo oggi le interviste del presidente Ernesto Folli e di Lorella Rossi, responsabile dell'area tecnica del Consorzio Italiano Biogas. Siamo nell'azienda agricola Palazzetto, Gumello Cremonese, un'azienda di zootecnica da latte da secoli, quindi un focus sulla produzione di latte da sempre. Nel 2009 siamo entrati nella produzione delle energie rinnovabili con un primo impianto di biogas da 1 megawatt e oggi abbiamo inaugurato il nuovo impianto per la produzione di biometano, quindi un impianto che è in coesistenza con il vecchio impianto di biogas che produce energia elettrica, produce 630 metri cubi di biometano. Per due anni andrà avanti in coesistenza con la produzione di energia elettrica e poi avremo tutto il vecchio e il nuovo impianto insieme collegati che produrranno e producono già da oggi 630 metri cubi di biometano. Siamo nella nuova stalla che abbiamo realizzato nel 2019, è caratterizzata da un sistema di mungitura a robot e in particolare di robot a mungitura volontaria. Cosa vuol dire? Gli animali volontariamente, secondo le loro ispirazioni della giornata, si recono vicino all'ingresso del robot di mungitura e quando il cancello si apre, che ha finito una collega che si è fatta mungere in precedenza, entrano e poi il robot riconosce l'animale che è entrato, riconosce come è la forma e la dimensione della mammella, dei quattro capezzoli e prima procede con delle spazzole a lavare e disinfettare i capezzoli e poi una alla volta, avendo mappato la dimensione e la forma della mammella, attraverso un sensore laser attacca i gruppi e munge la vacca. Abbiamo affrontato il tema dello sviluppo degli impianti di biogas in ottica di produzione di biometano. Tra le tematiche che abbiamo affrontato una destra sempre molto interesse che è il tema della sostenibilità delle bioenergie, perché richiede appunto di affrontare e produrre biometano nel pieno rispetto dei principi della direttiva europea che vedono alla base il rispetto dei terreni più pregiati da un lato e dall'altro la produzione di una bioenergia sempre sostenibile nel senso che per la sua produzione si risparmiano grammi di CO2 rispetto ai combustibili fossili di riferimento. Infine, come in ogni puntata di questa stagione, siamo arrivati al momento della rubrica sulle energie rinnovabili. Finalmente anche in Italia sono arrivate le comunità energetiche, in altri paesi europei sono già molto sviluppate. Le comunità energetiche possiamo dire che è quella fase in cui possiamo noi, in piccoli centri abitati, riuscire a condividere una possibilità di produrre energia rinnovabile, ma non la consuma solo l'edificio che ha messo magari i pannelli fotovoltaici, ma distribuirla anche lì intorno. Stanno partendo tantissimi progetti, siamo ancora all'inizio, ma per esempio abbiamo sviluppato, abbiamo visto insomma con dei convegni e comunque con altri tipi di stakeholder dell'Italia che per esempio i municipi a Roma, e uno è il sesto municipio, sta partendo proprio mettendo un impianto fotovoltaico sopra a tutto il municipio e poi creando questa comunità energetica per dare poi energia ai palazzi di Mitrofi. Un'altra questione che è partita in molte piccole cittadine italiane, anche dei borghi, sono le chiese, perché per esempio la comunità energetica si può sviluppare appunto su delle superfici, in questo caso per la parte delle rinnovabili, perciò dei pannelli fotovoltaici, e stanno cominciando a utilizzare questi luoghi che sono appunto di aggregazione anche come luoghi di produzione di energia e rinnovabili, di conseguenza andando a risparmiare la parte dell'energia da fonti fossili che adesso consumano e creando anche lì aggregazione. Questo possiamo dire che è anche un fattore democratico, perché appunto non abbiamo più la questione del pozzo di pretolio che viene sfruttato da delle multinazionali, ma abbiamo un impianto che in quella maniera è diffuso ed è di proprietà delle stesse persone che poi utilizzano l'energia prodotta, perciò è un sistema che tutti noi ci dovremmo informare come farlo, perché sono comunità di cittadini che si mettono insieme per produrre energia rinnovabili e consumarla. Si conclude così la seconda puntata della nostra trasmissione. Grazie per essere stati con noi. Se volete approfondire questi contenuti potete farlo seguendoci sui nostri canali social o leggendo gratuitamente online la nostra rivista L'Ecofuturo Magazine. Arrivederci alla prossima puntata. Grazie a tutti. Grazie a tutti.